a tutti e benvenuti in questo nuovo video scusate l'assenza volevo appunto fare questo video per dirvi che siamo tornati e oltre a questo canale giorgia ha aperto anche un suo canale youtube vi lascio il link in descrizione e niente e da domani volevo iniziare a fare dei vlog penso giornalieri quindi dei daily vlog ma non sono sicura di riuscire tutti i giorni quindi vediamo un po come va finora ho dovuto un attimino riequilibrare le cose essendo da sola in casa con pia non è facile poi sono iniziati gli sport e quindi corre di qua corre di là adesso ci siamo sistemati ho iniziato a seguire un programma di diciamo di organizzazione per quanto riguarda le pulizie di casa e anche una nuova organizzazione per quanto riguarda il menù e niente quindi volevo dirvi che siamo tornati che ci vediamo domani con un nuovo video ciao